Il riciclaggio. Il riciclaggio è un modo per pulire e rispettare l'ambiente. Quando avete della spazzatura di strada, pensa a quanto il mondo possa essere più pulito se tutti facessero il riciclaggio. Ma non bastiamo solo noi, tutto il mondo deve riciclare per la nostra salute, ma anche per la terra stessa, perché un mondo riciclato è un mondo più pulito. Grazie.